Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Io sono MisterX e come al solito siamo in un video di FNAF Oggi volevo giocare a FNAF World, non porterò una serie e quindi volevo giocarlo oggi insieme a voi FNAF World è un gioco carino, è un giocatore che si gioca singolo ed è il 2016 Ho trovato gratis su questo sito, c'è anche Sister Location Guardate qua, c'è anche Sister Location Complimenti, complimenti Ecco qua, ci sta caricando Non credo che vogliate vedere gli aggiornamenti di Amazon, almeno spero Loading Project che palle Cioè raga, io li odio i Loading Project Sono le robe che io odio proprio Qua ci sono anche altri giochi che sicuramente conoscerete Puglia Ma... vabbè Giochi di merda comunque E qua va proprio, voglio capire Il resto Ok, lei Giochiamo FNAF World Ok Foxy Back in order Torna ai... Ai tuoi lavori per l'anno wasd vero ci si muove con wasd mi sembra e che mi sta diventando un schermo back to basics madendo che cos'è? sarebbe spugliendo hot cheese pizza wheel bello, 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 bello no freddi sto morendo no che cosa è Riff no è morto è troppo figo e vai abbiamo vinto sto inizio che musica di merda vediamo tutto fiero freddi ve lo faccio vedere un po' ok dovevo fare questa battaglia a sto boss è il primo boss già ho messo già sul boss credo perchè lui è uno dei boss credo non so di più infatti credo che si ma guarda come il figlio non so ne avevo levato nulla dai che schifo credo che lui fa il danno credo oh perchè lui fa il danno che bastardo sto gioca una merda sto gioca una merda sto gioca una merda ma che cosa perchè non mi copia di attaccare no raga mi dispiace ma mi devo ripetere un po' no veramente mi dispiace ma buggava che lo so devo tagliarlo con la parte devo tagliarlo con la parte cercherò di tagliarla non ci andrò dal boss ci voglio andare che musica raga fa schifo oddio oddio cica sta morendo il potere dei cupcake no raga no raga devo usare la pizza well ahhh vai è un dato di pizza vedete male eh le pizze pizza well no raga facciamoci la pizza well all'attacco ahhh pizza well vai vai comunque raga lo stavo prendendo per il culo Alenzo si comunque cominciamo ehm ho dovuto cominciare FNAF World poichè è carino e poichè ci sono degli iscritti sono sicuro che la gente ama gli unicorni io li odio però vabbè questo coso questo gioco ti fa venire voglia mai gli unicorni non so perchè guardate c'è tutta quest'area taffiera l'area eh abbiamo vinto abbiamo vinto bastardo e sti bug di merda che vengono la cazza di cane perdonate il momento che grazie grazie è pronto perdonatemi ma era una chiamata ma non ho risposto raga per rispetto ok ok cerchiamo da arrivare da quel tizio se si può se non me no infatti devo scrivere il boss no che palle stu tizio due mi sembra cica le zitti mangiamo bello mangiare gustare st perchè mi paga non so ma se a me a me bagga perdonate noo che bastardo noo qui ti permetti colpire foxy non è giusto diciamo ammazzare più deboli diciamo dei bambini cupcake hot cheese non è giusto però non vinceremo mai contro sto tizio per l'acciglio il potere marone e dal non vincendo farcela questa sentita questa partita credo che sto per un video una volta raga come fiero perchè mi ammazzi lui che ti ha fatto di male ma era freddito fiero eh mo ti lancio la pizza noo ci ha ammazzato foxy ci ha ammazzato foxy bastardo come si è permesso di ammazzarci ah no è ritornato in vita eh vabbè l'ha riammazzato tipo buccia buccia pizza guccia andiamoci di pizza fratelli la bufala ne ci vado a più vai bello eh guardate com'è fiero sto gioco c'è tutto fiero sicuramente la grafica di five nights at fredd's quando comincio la serie domenica pasqua non sarà così perchè la schifo se no cioè però si vedete vabbè no non si può fare anche party favors ok l'ultima pizzabuello pizzabuello vai distruggilo no ci ha lasciato definitivamente foxy no pure freddi pure freddi è morto se c'è però in gli amano mananciato però la pizzabuello che perché c'è nulla che abbiamo vinto lo ricorderemo va a dire di farci pure l'ultima già che ci siamo quale cos'è l'holbit si è l'holbit tipo che stialve di merdi di merda mi imbraccano da freddi con un camionetto fiero perché vuoi sempre freddi devi fare le cose dai new party member non frego una battaglia con un nuovo membro lo sto nuvolando disgraziato freddi back to basics no gold end ma che so che musica di e vi lascio così fraffio spudoratamente ma ragazzi comunque questo era il tuo episodio di fnaf world spero che vi sia piaciuto noi ci vediamo presto con un nuovo video non ho voluto fare freddi perché ho deciso di mantenercelo per pasqua ok raga io credo che possiamo finire qua il video noi ci vediamo presto con un prossimo divertente video del vostro